I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Caserta hanno sottoposto a sequestro oltre 50.000 articoli elettrici ed elettronici recanti marcatura CE, non conforme all'originale e quindi potenzialmente pericolosi se utilizzati nelle case domestiche. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati ammonta a circa 270.000 euro. Il risultato è stato conseguito dalle fiamme gialle a seguito di indagini nei confronti dei soggetti dediti all'importazione, produzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti e nocivi alla sicurezza pubblica, provenienti da paesi extracomunitari e non conformi alla normativa europea. I finanzieri della Compagnia di Caserta hanno avviato un'attenta attività info-investigativa che ha consentito di individuare nei pressi del casello autostradale di Napoli Nord due auto articolati condotti da due cittadini stranieri che trasportavano articoli elettrici ed elettronici, nonché prodotti natalizi con marchio C'è, non conformi alla vigente normativa. La merce sequestrata dalle fiamme gialle era verosimilmente destinata alla commercializzazione parallela presso negozi compiacenti e sulle bancarelle dei mercati rionali del casertano e del napoletano, denunciati un cinese ed un Moldavo.